Il nazionalsocialismo. Già le parole ci dicono che siamo di fronte non così come sembra ogni tanto a un qualcosa di inspiegabile che compare improvvisamente in Germania dal nulla. Nazionalsocialismo è una parola composta di due parole nazionalismo e socialismo che erano sostanzialmente le ideologie dominanti di quell'epoca. Che cos'è stato il comunismo? Noi lo chiamiamo socialismo, Matrosky criticando Stalin diceva che era un socialismo nazionalista. Infatti era un socialismo nazionalista. L'Unione Sovietica era socialismo, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche con un fortissimo nazionalismo che volgeva tutto alla potenza della Russia che doveva crescere, industrializzarsi, diventare più forte per espandere il verbo. Che cos'era il fascismo? Non abbiamo avuto il tempo di parlarne oggi, ma il fascismo è in piccolo, in sedicesimo, un miscuglio fra le origini socialiste di Mussolini e la sua conversione al nazionalismo durante la prima guerra mondiale. Quindi molto in piccolo, un totalitarismo incompiuto, come si dice di solito, imperfetto, la mescolanza è quella degli stessi ingredienti. Un ingrediente più da una parte, un ingrediente in più dall'altra. Il nazionalsocialismo consta dunque di due principali ingredienti. Il primo evidentemente è il nazionalismo. Il nazionalismo che il mondo tedesco covava da secoli. Se voi pensate a Lutero e se noi leggiamo il Lutero originale, come scrive uno dei più grandi storici del nazismo, che è lo Scherer, che è un protestante, i germi di un'idea nazionalista erano tutti presenti nel discorso dei principi della nazione germanica di Lutero. Dove Lutero sostanzialmente invitava a separarsi da Roma, e cioè dall'idea di latinità e di cattolicità, e dava ai principi tedeschi il potere sulle chiese tedesche. Difficile immaginare una concezione in cui religione, politica e nazione, non per niente poi tutto il protestantesimo, non avremo il tempo di vederlo, ma il protestantesimo fu inizialmente per molti aspetti favorevole nella prima fase all'ascesa del nazismo. Nella seconda ne prenderà le distanze, molti nazisti e molti protestanti daranno la vita. Il nazionalismo tedesco certamente aveva dei germi nel passato, per esempio, ripeto, in quella scissione dalla cultura, dalla storia europea che fu dovuta al pensiero di Lutero, ma aveva poi delle radici più vicine nel pangermanesimo ottocentesco. Il pangermanesimo era la dottrina in cui era cresciuto Adolf Hitler quando era ragazzo. Hoffman, mi sembra si chiami, in questo momento mi sfugge, ha analizzato tutta la giovinezza di Hitler e in particolare i giornali che Hitler leggeva. Hitler, che come voi sapete era un austriaco, fu cresciuto da suo padre nel culto di Schöner, che è un politico tedesco pangermanista e che cioè sosteneva molto semplicemente che tutti i tedeschi dovessero unirsi fra di loro, quindi i tedeschi della Germania, i tedeschi dell'Austria, poi col tempo gli altri tedeschi dopo la seconda guerra mondiale, quelli che erano stati staccati, tipo i sudeti, dovessero unirsi in una grande Germania, che era un po' il sogno del parslavismo a oriente o della grande Serbia in Serbia. Cioè il pangermanesimo è una delle tante versioni del nazionalismo. Con un aspetto in più che il pangermanesimo di Schöner, il pangermanesimo di Hitler, è il pangermanesimo di un austriaco, un austriaco che diventerà il capo della Germania, cioè di un uomo che vive in una cultura che è il contrario del nazionalismo. Qual è l'unico impero multinazionale nel cuore dell'Europa? L'Austria-Ungheria. Su cosa è stato fondato l'Austria-Ungheria? Sulla nazionalità? No. Sacro romano impero è stato fondato da Carlo Magno, mettendo insieme popoli diversi e in un sogno, diciamo così che poi tanto sogno non è stato perché è durato mille anni, nel quale si contemplava la possibilità di etnie diverse di vivere insieme, nonostante la lingua e le culture diverse, perché accomunate da un minimo comune denominatore fondamentale che era la stessa fede. Io vengo da Trento e quindi è stato fino al 1918 impero austro-ungarico. E i trentini si sentivano austriaci. I trentini non hanno applaudito la prima guerra mondiale. Si sentivano tedeschi? No. I trentini si sentivano italiani. Eppure si sentivano di appartenere all'impero austro-ungarico. Infatti quando veniva Cecco Beppe cantavano l'inno austriaco con le varie strofe, una in italiano, una in tedesco e così via. Questo era l'ideale imperiale. La possibilità di una coesistenza di popoli, di etnie diverse, in un unico impero. L'impero multinazionale austriaco. Quell'impero che l'arciduca Francesco Ferdinando cercò di salvare attraverso il trialismo, cioè dicendo basta Vienna è solo capitale, anche Budapest e anche Sarajevo, e così facciamo davvero un impero multinazionale. Quindi lui nasce nell'impero multinazionale nell'epoca dei nazionalismi e Hitler concepirà sempre un grande odio verso l'Austria. Perché cos'era l'Austria? L'Austria era il medioevo del mondo moderno. Era il primato della religione sulla nazione. Infatti vi faccio presente che i due cancellieri austriaci, Dolfus e Schnussing, uno verranno ucciso e l'altro internato in un campo di concentramento dai nazisti. Perché l'Austria non si voleva piegare alla Germania. Dolfus è stato ucciso ed era un anticomunista e un antinazista. Il suo successore è finito in un campo di concentramento ed era un anticomunista e un antinazista. È interessante perché i due cancellieri austriaci erano entrambi avversari del comunismo e del nazismo? Proprio perché appartenevano a questa storia. La storia sburgica, la storia dell'impero, la storia dell'idea di un imperatore, Carlo, l'ultimo imperatore, che se voi guardate le foto dell'epoca in divisa militare semplice partecipava alla processione del Corpus Domini. Perché dico questo? Perché c'è un famosissimo discorso di Benito Mussolini che dice che bisogna, prima guerra mondiale, bisogna entrare in guerra contro il militarismo prussiano tedesco, il suo cuore della barbarie del Medioevo in cui un imperatore si inginocchia a un simbolo che non ha nessun significato. 1915 Benito Mussolini. Allora che cosa scriverà il giovane Hitler nella sua camera? Una frase classica che era una frase sceneriana. Lontano da Vienna, lontano da Roma, si edifica il Duomo della Germania. È un austriaco che ama la Germania e odia l'Austria. Odia gli Asburgo, odia quella città di Vienna in cui vi sono tedeschi, italiani, austriaci, ebrei. Vienna-Praga. Quel miscuglio insopportabile dove lui poi viene a conoscenza anche con l'ebraismo orientale, quello molto carico, quelli vestiti proprio da ebrei, con il caffettano, proprio riconoscibili. Lontano da Vienna, cioè lontano dall'idea imperiale, dei popoli insieme, dall'idea di Unione Europea non fondata sul dollaro, sull'euro, ma su qualcos'altro. Scusate, faccio un brevissimo accenno in avanti. Uno dei padri dell'Unione Europea è stato Alcide De Gasperi, che credo, penso di non sbagliarmi a dire che non l'aveva concepita come adesso, ma perché? Perché lui era un trentino deputato al Parlamento di Vienna e quindi aveva visto che i popoli europei potevano stare insieme. Non credo sarebbe stato d'accordo su un'Europa costruita come quella di oggi, ma la sua idea arrivava da lì, dall'aver sperimentato questa possibilità. Al Parlamento di Vienna lui parlava, stava, con tedeschi, austriaci, ungheresi, slavi, cicloslovachi. Allora, cresce Adolf Hitler nel mito di un impero asburgico da battere per unire l'Austria al vero cuore della germanicità, che è la Germania. E voi capite che non era soltanto una rivalità politica, ma anche una rivalità religiosa. La Germania protestante, l'Austria cattolica. Se voi leggete il parere dei gerarchi nazisti su Lutero, compreso Hitler, è univoco. Non tanto sull'aspetto religioso di Lutero, perché non erano luterani nazisti, ma in Lutero vedono l'eroe che ha staccato il mondo tedesco da Roma, che ha battuto l'idea di una classe sacerdotale e che ha dato alla Germania, tramite la traduzione della Bibbia, una lingua sua separata dalla latinità. Tutta l'interpretazione di Lutero è costantemente quella. Ecco perché noi vedremo che Hitler cercherà costantemente, fino al 37, di mangiarsi i luterani e di trasformarli in una chiesa di Stato. Perché? Perché la chiesa non va bene, ma se è una chiesa come quella anglicana, come quella dei principi tedeschi, beh, tutto sommato è una chiesa di Stato, è una chiesa nazionalista e quindi può andare. Questo progetto lo perseguirà senza riuscirci. Il giovane Hitler non è soltanto un uomo che vive in questo clima sconeriano, in questo clima pangermanico, che ha come bersaglio principale l'Austria e Roma, lontano da Roma. Dopo magari riusciremo a vedere perché Roma, ma è semplicissimo. Roma è il simbolo appunto dell'universalismo. Alfred Rosenberg, l'ideologo, diciamo così, che più fu importante a fianco di Hitler, Alfred Rosenberg diceva che lui odiava gli ebrei e Roma. Perché come diranno entrambi, dopo vi leggerò qualche passo, che cos'è Roma? Che cos'è il cristianesimo? Una setta fondata da un gruppo di ebrei. E qual è l'idea che il cristianesimo, che l'ebraismo attraverso il cristianesimo ha fatto penetrare nel mondo? L'idea di un Dio creatore, il nazismo sarà panteista. L'idea dell'universalità e quindi della comunanza degli uomini, mentre il nazismo sarà fondato sul pangermanesimo e sul razzismo, cioè sulla negazione dell'origine comune tra gli uomini. Il giovane Hitler si fonda su questo pensiero e tutta su una serie di autori che legge, che scrivono allora, i primi del Novecento, su una serie di riviste veramente strane, per esempio riviste di astrologia. Hitler sarà sempre interessato all'astrologia e in vari momenti lui crederà che in fondo è scritto nel destino che lui debba vincere. Dicevo che l'altro avvenimento, oltre a questa formazione culturale che non abbiamo il tempo di analizzare a fondo, è lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. La Germania unificatasi nel 1871 che sostanzialmente dice adesso siamo arrivati anche noi, vogliamo il nostro potere, vogliamo le nostre colonie. Quindi lo scontro fra la Germania, l'Inghilterra e la Francia. L'Inghilterra e la Francia, che essendo nate prima, in qualche modo hanno anche conquistato buona parte della Germania, dell'Africa scusate, che ormai iniziano ad attuare una spartizione di potere proprio per impedire alle nazioni giovani, Germania e Italia, di entrare anche loro nella spartizione della grande torta del vecchio mondo e dell'Africa. E quindi sostanzialmente il giovane Hitler segue con apprensione i destini di questa Germania che deve diventare grande, che all'inizio del Novecento ha la prima potenza del mondo insieme agli Stati Uniti e l'Inghilterra, che cresce sempre di più e che poi, come sappiamo, spingerà insistentemente l'Austria per una guerra. Tanto ci siamo noi, facciamo una guerra, vinciamo. Thomas Mann scrive, eravamo così grandi, così forti, così convinti della nostra grandezza che ci aspettevamo il nostro momento di gloria. Il grande momento di gloria per la Germania. Tenete presente che Thomas Mann è un ebreo. Quando vede la scelta del nazismo dovrà rendersi conto di quanto anche il suo nazionalismo sia stato in qualche modo partecipe di quella ubriacatura collettiva del popolo tedesco, che come sapete, allo scoppio della guerra, festeggia nelle strade questo avvenimento. Inglesi e tedeschi, raccontano gli storici, saranno soprattutto quelli che accoglieranno più volentieri quest'idea della guerra, per tanti motivi che non abbiamo il tempo di analizzare. Però cosa succede? Che la prima guerra mondiale viene persa. La Germania perde la guerra. Perde la guerra e viene bastonata, come abbiamo accenato prima, nel Trattato di Versailles. Vengono tolti i territori, viene ingiunta la consegna della flotta, la flotta tedesca preferisce autofondarsi, viene imposto un limite all'esercito tedesco di 100.000 uomini. Vengono imposti debiti di guerra pesantissimi. Il Dictate di Versailles è un grave errore della diplomazia. 1934, prima del suo discorso di Bari, Benito Mussolini a Bari dirà che il razzismo è un'ideologia di un popolo che quando noi avevamo Virgilio non sapeva neanche scrivere, e Mussolini è ancora molto lontano dall'alleanza con il nazismo, nel 1934, Mussolini fa un famoso discorso in cui dice ai suoi alleati, perché Mussolini ha fatto la guerra a fianco dell'Inghilterra, della Francia e degli Stati Uniti, ai grandi alleati, alla grande Repubblica stellata, dice che c'è nel cuore dell'Europa una bomba all'orogeria. Ho detto male nel 1934, 32 questo se non sbaglio. C'è una bomba all'orogeria. Cioè c'è un popolo che continua a essere gravato di debiti e che prima o poi esploderà. Esattamente quello che è successo. Lo aveva detto anche il famoso economista Keynes. Perché? Perché era successo questo, che l'Inghilterra e la Francia erano indebitate l'una nei confronti dell'altra ed entrambe in confronti degli Stati Uniti. E quindi ognuno si rivaleva sul paese sconfitto. Quale fu il paese? L'impero fu smembrato e la Germania fu considerata da Wilson l'unica causa della prima guerra mondiale. Il che evidentemente è una evidente forzatura. La Germania si trova costantemente a pagare debiti su debiti su debiti I primi governi tedeschi sono governi socialdemocratici. Due partiti che si contendono la scena sono il partito socialdemocratico e il centrum cattolico. Musso Hitler entra nel DAP, nel partito tedesco dei lavoratori, un partitino di sinistra piccolissimo che poi lui trasformerà nel partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori, nel 19. Diventerà cancelliere nel 32. Fate un attimo il confronto. Mussolini fonda i fasci nel 19 e nel 22 al potere. Hitler li fonda nel 19 e nel 32 al potere. E tiene duro per tanti e tanti anni durante i quali il suo partito sembra destinato al nulla, a evaporare. 22, 23, 24, 25, 26. I nazisti sono pochi. I suoi comizi sono nelle birrerie, la famosa birreria di Monaco. Si forma un gruppo di giovani violenti, le famose SA paramilitari organizzati che picchiano, come picchiano i comunisti, ma sia i comunisti che i nazionalsocialisti sono una minoranza nella Germania del dopoguerra. Tutto sommato l'esperienza del nazionalismo non ha portato molto bene, perché la guerra si è persa. Ma il dittate di Versailles, 18, la crisi del 23, in Belgio, non stiamo a descrivere, la crisi del 29, con 6 milioni di disoccupati, portano alla ribalta i due partiti dell'opposizione. Cioè il partito comunista e il partito nazionalsocialista. che si trovano da piccoli partiti a grossi partiti di cui i tedeschi non è che conoscono poi più di tanto, ma che sono l'unica alternativa al partito socialdemocratico in particolare che ha fallito. O meglio, che nell'ottica del popolo tedesco ha fallito. Difficile dire che abbia fallito con le condizioni in cui l'Inghilterra, la Francia e gli Stati Uniti l'avevano messo probabilmente avrebbe fallito chiunque. Lo strangolamento di un paese nel cuore dell'Europa è molto pericoloso. Era stato il tentativo dell'Inghilterra e della Francia non solo di pagare i loro debiti, ma di impedire alla Germania di tornare potente. No? E quindi di tenere la Germania massa. La realtà è che a un certo punto i tedeschi si consegnano a questi due partiti. Nel 29, nel 30 il partito comunista e il partito nazionalsocialista balzano, se non ricordo male, a 4 milioni, uno 5 milioni di voti l'altro. Ripeto, fino a poco prima erano a cifre infinitamente più basse. Inizia quindi la corsa fra i due partiti che sono le uniche due alternative che i tedeschi hanno. Come sapete il presidente della Repubblica tedesco si chiama Hindenburg ed è un generale tedesco della prima. Nel 32 il presidente della Repubblica che è un generale tedesco della prima. Questo vi dice quanto la Germania sia stata segnata costantemente dalla prima guerra mondiale. È un conservatore, non è un nazista. Non è un nazista ma deve fare i conti con la crisi del partito nazionalsocialista che diventa il partito di maggioranza relativa. A questo punto Hindenburg chiama Hitler a fare il cancelliere. per guidare la Germania verso nuove elezioni. È facile pensare, da quello che sappiamo, che Hindenburg cerca di controllarlo Hitler. Perché dovete tenere presente che se potevano condividere alcuni ideali di destra, diciamo così patriottica e nazionalista, Hindenburg era però un uomo dell'esercito. E l'esercito odiava Hitler. Non è come nel caso del fascismo in cui l'esercito tutto sommato era vicino al fascismo perché Mussolini aveva scelto nei quadrunveri per esempio uomini che appartenevano agli alti gradi dell'esercito. Ministri legati alla monarchia. In questo caso Hitler era l'uomo che aveva costruito un apparato paramilitare, l'SA, guidate da Ernst Romm, questo uomo terribile che era il suo miglior amico, che era un uomo convintissimo di fare una rivoluzione nazionalista e comunista. Fortemente convinto di questo. Ma che era un uomo di una crudeltà spietata e con un desiderio enorme di potere si scontrava la tradizione militare germanica con tutta la sua gerarchia, la sua nobiltà, contro questa manica di giovani disperati picchiatori. Vi ricordo che anche l'ultimo grande attentato a Hitler, l'operazione Valkyria sarà fatta dall'esercito tedesco. Perché come succede spesso, i capi dell'esercito non sono, come magari possiamo pensare, quelli che più spingono per la guerra. A volte sono quelli che meno spingono perché sanno che cos'è. Hitler e Stalin per fare la guerra mondiale hanno dovuto eliminare l'uno i dirigenti dell'esercito sovietico, l'altro i capi dell'esercito tedesco. Allora Hitler diventa cancelliere e qui c'è il famoso episodio dell'incendio del Reichstag, l'incendio del Parlamento. Un episodio che a seconda di come lo si racconta assume significati totalmente diversi. Si dice di solito, spesso si dice, che i tedeschi incendiarono il Reichstag per dare poi la colpa ai comunisti. Non so se questa è la versione che avete imparato anche voi a scuola. È una versione falsificata, credo, anche se forse una parola definitiva non possiamo dirla. Perché falsificata? Perché dice solo metà della verità. Sembra che ci fosse in Germania un partito dittatoriale, il nazismo, che aveva spregio delle istituzioni democratiche e repubblicane e che quindi incendiò tranquillamente il Parlamento. E si dimentica di dire che c'era un altro partito, quasi equivalente nel 1932, che era il Partito Comunista e che aveva lo stesso identico spregio del Parlamento. Infatti l'ipotesi più probabile è un'ipotesi che mette insieme i due nemici come li metterà insieme nel patto a Forribe Trombolot. E cioè la polizia tedesca, in quel momento sotto il controllo di Hitler, che era cancelliere, che traghettava il paese a nuove elezioni, scopre un tentativo di incendio del Reichstag da parte di giovani rivoluzionari comunisti. E semplicemente lo copre, lo aiuta, lo rende possibile. Ma capite che raccontato così ci rende un po' meglio l'idea di quale fosse la Germania da allora. Consegnato ormai a un'idea chiara che vincessero i comunisti o che vincessero i nazisti era la dittatura. Solo questa idea ci può far capire perché i tedeschi, che ormai avevano scartato nel 1932 i partiti tradizionali, alla fine daranno un po' più voti ai nazionalsocialisti. In parte perché Hitler riuscirà a addossare tutta la colpa ai comunisti, in parte perché tutto sommato la gente della dittatura comunista sapeva qualcosa di quella nazista niente. E chi fosse bene Hitler non era a molti chiaro. Ad altri invece sembrava che Hitler avrebbe potuto essere addomesticato. Se voi leggete la storia di Einstein, Einstein è un ebreo che all'ascesa di Hitler lascia subito la Germania. Un sacco di ebrei gli diranno ma cosa fai? Ma credi davvero che quelle dichiarazioni che lui fa le realizzi? Sono dichiarazioni che si fanno in campagna elettorale, ma poi quando dovrà governare il paese dovrà fare i conti con i grandi industriali ebrei, con i grandi editori ebrei, con i grandi scienziati ebrei. E quindi molti ebrei, pensate che molti ebrei continueranno a rimanere in Germania dopo le leggi razziali, convinti di essere salvi perché, sì è vero, ho un nonno ebreo, ma ce ne ho anche uno tedesco. Sì è vero, ho una mamma ebrea, ma ho la testa del partito e sono un fervente nazionalista. Altri invece capiranno. In questi anni Sigmund Freud in Austria scrive una serie di lettere in cui dice la nostra unica speranza, non l'avrei mai detto, è il mio grande nemico, la Chiesa Cattolica. Voi sapete che Freud ebbe fortissimi contrasti con la Chiesa, ma nel momento dell'ascesa del nazismo lui dice che la speranza che l'Austria rimanga libera è la Chiesa Cattolica, è il cattolicismo austriaco. Sarà un'illusione, ma non aveva visto male, come vi ho detto i due cancellieri cattolici dovranno essere uccisi per prendere l'Austria, ma l'Austria era piccola, era insignificante rispetto alla Germania, quindi quando Hitler avrà il permesso di Mussolini la sfalterà in un attimo. E allora Mussolini, e allora ecco che Hitler diventa cancelliere della Germania, ha una enorme fortuna, muore Hindenburg, può quindi democraticamente diventare il dittatore del paese. Non ha mai avuto la maggioranza assoluta Hitler, non è mai arrivata la maggioranza assoluta, ha avuto solo la maggioranza relativa. Nelle elezioni del 1932 era arrivato al 40%, circa poi arriva a qualcosa oltre, ma riesce a mangiarsi dei piccoli partitini del 6-7%, arriva al 50% più 1, quello che gli serve, e poi fa la dittatura. Sostanzialmente è una presa del potere democratica. Poi, in nome del gius positivismo tedesco, secondo cui sostanzialmente la legge la fa chi ha i numeri, si fa le leggi che gli servono, una dopo l'altra. Hitler è un personaggio anche abbastanza facile da inquadrare, perché le idee che lui aveva professato le porta avanti. È diverso da un Mussolini, che era un uomo che snasava, cambiava, guardava, tanto gli faceva fare la prima contro i cattivi tedeschi quanto allearsi nel 36-37 con la Germania. Hitler ha delle idee fisse che porta avanti. Le sue idee sono espresse nel Mein Kampf, ma sono più interessanti, molto più interessanti in questo libro, che sono le conversazioni a tavola di Hitler. Perché sono più interessanti? Perché il Mein Kampf è scritto da uno che ancora non è nessuno. Queste sono del 1941-1942, cioè degli anni in cui la Germania sta vincendo la guerra mondiale. Per conoscere Hitler bisogna leggere questo, i suoi dialoghi con i gerarchi nazisti. Perché nei suoi dialoghi con i gerarchi nazisti, trascritti da Martin Borman, molto più che in qualsiasi biografia divulgativa, voi vedete le sue idee, che sono molto chiare, molto semplici. Molto semplici. Le sue idee sono, la prima l'abbiamo già vista, pan germanesimo. Quindi, cosa farà in politica estera? Prima cosa, annessione dell'Austria, della sua Austria, annessione dei sudeti, tedeschi. È chiaro? La seconda idea, spazio vitale ad est. Il mondo germanico ha bisogno di un impero, non quello coloniale dell'Inghilterra e della Francia, ma il mondo slavo. Gli slavi sono una razza inferiore. Sono dei sottouomini. Se non avesse pensato così, probabilmente avrebbe vinto la guerra. E come sapete, quando i nazisti attaccano la Russia, moltissimi ucraini e russi sono disposti ad aiutare Italy perché non sanno chi è, perché vogliono liberarsi da Stalin. Quando si accorgono che gli ordini di Italy sono sterminate tutti, non abbiamo bisogno di alleati sottouomini, allora inizieranno a combattere perfino per Stalin. E' la follia di Hitler che ci ha salvato dalla vittoria di Hitler. Hitler ha queste idee e queste idee hanno due fondamenti. Andiamo a vedere un po' il discorso di cui si parla più spesso, l'antisemitismo. È il discorso di cui si parla più spesso, ma a mio avviso è il discorso di cui si parla più spesso in modo molto confuso. Da dove viene l'antisemitismo di Hitler? L'antisemitismo di Hitler non è qualcosa di totalmente nuovo. Se voi leggete un pochettino gli autori tedeschi per vedere se quell'idea del popolo ebreo come un popolo nemico è un'ebrea originariamente sua scoprirete che l'antisemitismo attraversa tutto il pensiero germanico da Lutero in poi. Lutero ha scritto un libro che si intitola Lutero ha scritto dei discorsi in cui lui dice chiaramente che gli ebrei vanno sterminati le case vanno distrutte le sinagoghe vanno bruciate e degli ebrei non deve rimanere più in Germania nulla. L'antisemitismo tedesco non data a quest'epoca ma possiamo andare ancora prima. I millenaristi di cui parlavo prima sono forti soprattutto nella Germania del 1350 la peste nera e i due obiettivi dei millenaristi tedeschi sono sempre gli stessi gli ebrei e i sacerdoti cattolici. Se voi proseguite in una storia più diciamo così nobile del pensiero non di queste eresie prima accennavo a Voltaire e Voltaire è uno dei primi a creare questo mito delle favole ebraiche che che ne dica a un uomo vestito di un lungo e nero abito talare il prete i bianchi con la barba i negri dai capelli crespi gli esaciti al codino gli uomini senza barba non discendono dallo stesso uomo. Voltaire è uno dei primi sostenitori del poligenismo cioè del fatto che l'origine dell'umanità non è comune ma è di tante famiglie perché la differenza fra gli stadi di sviluppo non è dovuta alla cultura alla religione allo spirito se vogliamo ma è dovuta alla razza all'origine questo concetto si fa ancora più forte in tutta una tendenza materialista che deve dimostrare deve giustificare la differenza di sviluppo con delle superiorità biologiche diciamo così genetiche diremo noi oggi ma senza analizzare questo limitandoci alla grande cultura tedesca per Hegel l'uomo secondo il quale lo spirito assoluto si realizza nello Stato e questo non è che sia distante dalla concezione nazista gli ebrei sono il popolo triste che vivono la scissione e il contrasto tra l'umano e il divino e perciò la loro religione nella loro vita sono tristi tipico della religione ebraica è il sentimento della schiavitù dell'uomo nei confronti di qualcun altro da lui Dio Mosè non è un liberatore ma è colui che sottrae il suo popolo alla schiavitù fisica per sottoporlo a una schiavitù morale se gli ebrei per Hegel sono tristi e schiavi per Fichte l'autore dei discorsi della nazione tedesca uno dei fondatori del nazionalismo tedesco Cristo era in realtà un ariano e San Paolo un ebreo corruttore causa della degenerazione del cristianesimo secondo lui gli ebrei sono tutti implutabili di esclusivismo servilismo e vanno scacciati dalla Germania vedo un solo modo per difenderci da loro conquistare per loro la terra promessa e spedirci di tutti siamo alla fine del settecento le favole ebraiche tornano anche in Immanuel Kant tornano in Arthur Schopenhauer di cui Hitler teneva il busto sempre nella sua stanza perché Schopenhauer veniva nell'ebraismo nel cristianesimo l'ottimismo sciocco di una religione barbara e qual era l'ottimismo sciocco di una religione barbara? che l'uomo è creato da Dio che il destino ultimo dell'uomo è il bene nella visione di Schopenhauer questo era folle e Schopenhauer criticava fortissimamente anche la visione biblica perché sosteneva essa crea una distinzione fra l'uomo e l'animale che non esiste voi sapete che Hitler era vegetariano animalista ha fatto numerose leggi a favore degli animali contro perfino la vivisezione tanto che alcune vignette dell'epoca mostrano dei conigli con il braccio teso che salutano Hitler e lo ringraziano all'inizio delle conversazioni a tavola Hitler definisce l'uomo il microbo più pericoloso l'uomo è il microbo più pericoloso che si possa immaginare sfrutta il suolo che ha sotto i piedi senza mai chiedersi se a questo mondo non disponga di prodotti che forse sarebbero indispensabili alla vita di altre regioni se si esaminasse attentamente questo problema vi si scorgerebbero probabilmente l'origine delle catastrofi che si verificano periodicamente sulla faccia della terra immaginatevi siamo all'inizio del novecento le origini delle catastrofi dovute dagli uomini non esistevano potremmo continuare a lungo pensando soltanto a Nietzsche alla morale degli schiavi a Israele emblematica dello snaturamento di tutti i valori naturali a Nietzsche che condanna l'uguaglianza delle anime di fronte a Dio sostenuta dall'ebraismo perché ma molto semplicemente perché quello che Rosenberg e Hitler condannano nella concezione biblica è l'idea appunto di un Dio creatore quindi l'esistenza di un mondo trascendente l'esistenza di un giudizio l'esistenza di un aldilà per stare al piano teologico più alto quanto all'uomo l'origine comune degli uomini è l'uguaglianza fra gli uomini Rosenberg dirà condanno l'universalismo e l'individualismo del cristianesimo l'universalismo tutti gli uomini sono uguali perché creati da Dio l'individualismo ogni uomo è unico e ripetibile no esistono razze non esiste un'unica razza umana ma esistono razze non esistono individui unici e ripetibili ma esistono parti di un unico popolo la visione nazista è l'esatto contrario della visione del Genesi molto semplicemente lo notava nel 38 Albert Einstein scrivendo molto chiaramente il nazismo non è solo contro noi ebrei e anche contro il cristianesimo e contro tutti i valori che hanno fatto la civiltà europea non è giudice Station Belli 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 gol